Si spacciava per guaritore ed occultista, in realtà estorceva denaro minacciando di pubblicare foto e video che lo ritraevano in atteggiamenti intimi con le vittime. È diventata definitiva la condanna a 12 anni di carcere per Carmelo Padovano, 44 anni, residente ad Alessandria della Rocca. È stato arrestato per estorsione, truffa e violenza sessuale dopo che la Cassazione ha confermato nei suoi confronti la condanna già inflitta in appello. Una squallida vicenda, quella emersa dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, in seguito all'arresto in flagranza di reato dell'uomo avvenuto nel 2018 per avere estorto del denaro ad una donna di Mussomeli, minacciandola di pubblicare foto e video a sfondo sessuale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, frequentando parrocchie e gruppi di preghiera, allacciava rapporti con membri di comunità religiose locali che venivano minacciati dopo essere stati ripresi in atteggiamenti sessualmente espliciti con lo stesso Padovano che si spacciava per guaritore ed occultista. Dalle indagini sono emersi altri gravi episodi di estorsioni, truffe e violenze sessuali di cui Carmelo Padovano si sarebbe reso autore in provincia di Agrigento, nei comuni di Caltabellotta, Ribera e Raffadali, ma anche in provincia di Messina e a Salerno. Le vittime in alcuni casi venivano truffate con la complicità dei genitori di Padovano, anche loro condannati in via definitiva.